benvenuti sul canale nda italia esperienze oltre il velo dove condividiamo le esperienze di premorte di persone che raccontano di aver visitato l'altro lato e di essere tornate l' nda di oggi è di jacob ecco la sua esperienza sono nato e cresciuto a melbourne in australia sono nato in una casa molto tumultuosa con molta violenza e molti traumi da parte di entrambi i genitori la vita è stata abbastanza difficile sono cresciuto con molti problemi di salute depressione cose del genere la mia fuga è sempre stata attraverso lo sport e un profondo interesse per le questioni spirituali psicologia cose di questo genere crescendo i miei problemi mentali sono peggiorati sempre più con sintomi da disturbo post traumatico idee suicide molti tentativi di suicidio tossicodipendenza cose di quella natura molto difficili da trattare la situazione inizia a raggiungere un punto di ebollizione intorno al 2020 qui a melbourne durante il lockdown le cose divennero abbastanza insopportabili il mio uso di droghe e alcol salì alle stelle e io era un disastro nell'ottobre 2021 una notte ero a casa a spendere il mio stipendio in un cocktail di sostanze chimiche per intorpidire il dolore come facevo di solito e prima che me ne rendessi conto svenni mi ritrovai all'istante in uno spazio molto buio immagino sia quello che noto come il vuoto non sapevo dove fossi non sapevo davvero cosa stesse succedendo tutto quello che sapevo era che avevo iniziato a sentire questa bellissima dolce energia e anche molto potente che scorreva attraverso di me e intorno a me era una presenza molto amorevole così amorevole che sentì ogni osso del mio corpo ogni cellula semplicemente rilassarsi quasi come se avessero smesso di funzionare perché non avevano più bisogno di funzionare come dicessero ah il nostro lavoro è finito ora nel frattempo la mia mente stava ancora lavorando stavo cercando di capire cosa stesse succedendo sapevo solo che mi sentivo come se fossi profondamente abbracciato da un'enorme presenza una figura enorme mi teneva e mi amava e non era per niente come il tipo di amore che avessi mai provato qui prima sulla terra era come abbracciare qualcuno che non vedi da tanto tempo e rilassarsi in questo ma molto molto più potente stavo cercando di capirlo perché iniziai a rendermi conto che avevo familiarità con questa energia l'avevo sperimentata prima ma non riuscivo a ricordare quando scansionai tutta la mia vita cercando di capire se era qualcuno che potevo ricordare chi era poi mi ricordai che questo era qualcuno con cui trascorsi del tempo prima di nascere questo era dio e quando capì che ero tenuto e abbracciato da dio ricordo di essermi sentito come se sì finalmente sono tornato finalmente sono tornato con te mi sentì così completo in questo amore che mi resi conto che ogni cosa che avevo provato a fare durante la mia vita in ogni piacere che avevo cercato di raggiungere in ogni obiettivo che avevo in ogni esperienza l'avevo inseguito e ora tornato qui non c'era più niente da inseguire non c'era più niente da cercare ora stavo bene stavo bene qui ero completo e soddisfatto poi dio mi porta fuori da quel vuoto in un'altra dimensione piena di così tante luci ovunque era quasi come essere nello spazio con le stelle ma queste luci erano diverse perché al loro interno erano dinamiche e cambiavano costantemente ce n'erano miliardi ovunque ma sembravano coscienti vive i colori che emanavano erano così belli così diversi da qualsiasi cosa avessi mai visto sulla terra dio iniziò a riunirli insieme per creare si potrebbe dire qualcosa come dei fuochi d'artificio incredibili opere d'arte sempre mutevoli dinamiche in evoluzione e in rotazione ero oltremodo stupito era un livello di bellezza così intenso che mi sentì come se stessi per cadere a pezzi come se stessi per disintegrarmi completamente per quello che stavo vedendo fu più bello di quanto potessi sopportare e rimasi semplicemente stupito da ciò che stavo vedendo potrei sentire il godimento di dio nel creare queste opere d'arte per me come se mi dicesse rilassati e guarda lo sto creando per te voglio mostrarti qualcosa di bello mi prese e iniziamo a volare ma sembrava anche di nuotare sott'acqua allo stesso tempo potevo sentirne l'inerzia mentre attraversavamo questo spazio potei vedere tutta la bellezza e comprendere tutto alla velocità della luce l'amore era così potente che sentivo come se riuscissi a malapena tenermi insieme era più di quanto potessi sopportare arrivamo ad una costruzione come una torre gigante fatta con lo stesso tipo di luci dinamiche che cambiavano colore costantemente iniziamo a volare lungo il suo lato andando verso la cima e la velocità a cui stavamo viaggiando aumentava 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 ed era così veloce e così intenso l'amore è tutto ciò che stavo ricevendo era così tanto che mi senti in sovraccarico e raggiungendo la cima dissi dio non posso sopportarlo è troppo troppo sento come se stessi per morire morirò per tutto questo amore e questa bellezza che non posso più sopportare mi fermò proprio al limite di ciò che potevo sopportare un'altra briciola di questo amore energia e mi sarei semplicemente disintegrato sapeva esattamente dov'era il mio limite e mi portò proprio lì prima che me ne rendessi conto fu in cima a questa torre lì con dio dio era proprio come un'invisibile palla di energia che potevo sentire ma non riesco a ricordare che aspetto avesse o era invisibile in quel momento non ne sono sicuro ma sicuramente lo riconoscevo lì in cima a questa torre guardammo fuori di fronte a noi e vidi i trilioni di queste luci tutte sparse tutto sembrava così bello ed io semplicemente fissavo tutto e assorbivo tutto dio disse che era il momento di andare avanti e attraversarlo sapevo quello che intendeva era la stessa cosa appena accaduta mentre salivo quella torre di luce ora stavo per volare attraverso tutte queste luci ma erano dieci volte di più di quelle sulla torre era inconcepibilmente di più dissi dio sono quasi morto salendo su questa torre come se fossi quasi caduto a pezzi e ora vuoi che lo attraversi voglio dire se ci vuole attraverso ho finito morirò di sicuro dio mi disse sì pensai tra me e me ok dio dice che morirò se dovesse attraversare tutto questo e vuole che io lo attraversi dissi ok mi fido di te potrebbe sembrare un po' strano dal punto di vista umano ma stando accanto a dio non puoi dubitare che dio sia così potente così saggio così amorevole e sei così tranquillo al riguardo pensai va bene lui lo sa meglio di me se dice che morirò e dice che è come se non ci fosse niente di sbagliato in questo ok facciamolo mi sollevò quasi come se prendesse un aeroplano di carta e mi lanciò attraverso queste luci iniziai ad andare e volare attraverso tutto questo spazio tutte queste luci tutto mi scorreva davanti e la velocità aumentava e aumentava e aumentava arrivai di nuovo allo stesso punto in cui pensavo che sarei morto se continuo morirò e superai quel punto cosa successe quando superai quel punto mi sentì come se la mia pelle venisse strappata via dal corpo e le ossa si stessero staccando e tutti questi strati di identificazione col corpo umano che erano rimasti con me tutti quegli strati venissero via mentre si staccavano mi sentì così bene che mi sembrò di togliermi una scarpa molto stretta sentì tutto il trauma che avevo portato fin dalla mia infanzia staccarsi con quegli strati uno strato dopo l'altro continuarono a staccarsi finché non arrivai allo strato finale la sostanza finale dentro di me l'essenza mentre scendevamo al centro di quell'essenza pensai che quando avessi perso lo strato finale questa sostanza finale qualunque cosa fosse non ci sarebbe stato più niente continuamo ma non si dissolse c'era questa essenza e semplicemente non se ne sarebbe andata ero confuso e pensai cos'è questo strato che è rimasto di me che non sia ancora dissolto cos'è questa essenza che rimane ancora in quel momento dio mi impedì di volare e mi sollevò come se prendesse un grenello di sabbia e mi mostrò quello che stava guardando dalla sua prospettiva stava guardando una piccola luce bianca questa piccola luce bianca era la luce della mia anima mi disse tutto quello che hai vissuto o vivrai tutto questo svanirà questo è tutto ciò che resta questo è eterno questo è ciò che tu sei non perderlo mai di vista ricordatelo poi mi fece rotolare come una biglia dalla sua mano e io mi uni alle altre luci fu come se una goccia d'acqua si unisse all'oceano e diventasse tutt'uno con l'oceano senza più alcun senso della propria identità il mio ego fu completamente cancellato e mi sentì unito a quel mare di luce e divenni tutto con loro divenuto tutto con loro mi sentì come se fossi tutto con dio è stata l'esperienza più bella più perfetta che la mente umana non può concepire era oltre l'immaginazione era come onestasi di pace e mentre ero lì non c'era il senso del tempo ero semplicemente lì ero uno ero tornato a casa dopo questo dio mi prese di nuovo e mi separò dall'oceano e accanto a me apparve un'immagine in questa immagine vidi questo corpo umano proprio qui svenuto sulla terra mi disse è ora di tornare indietro non voglio tornare indietro risposi puoi almeno farmi ricordare tutto questo certo disse prima di tornare indietro posso farti qualche domanda e di nuovo rispose certo gli chiesi come posso tornare ad essere quel ragazzo di nuovo non voglio tornare ad essere lui non mi piace essere depresso tossico dipendente suicida e tutto il resto quel ragazzo è molto diverso da quello che sento di essere ora in questo posto il contrasto è troppo mi rispose semplicemente va tutto bene va tutto bene non mi giudicò non disse che era un fallimento non c'era niente del genere disse solo va tutto bene chiesi che mi dici della gente lì non mi crederanno quando dirò loro di questo posto intendo che mi chiederanno come può esistere tutto questo amore e io non ero a conoscenza posso diffondere questo amore con le persone della mia vita snocciorai alcuni nomi e lui rispose bene è per questo che sei lì mi dispiace ma come posso dare loro tutto questo amore che sto sperimentando ora disse chiedimi e ti aiuterò chiedimi di essere uno sfogo per questo amore fui molto incuriosito dalla formulazione che usò perché disse chiaramente sfogo il che significa che non dovevo provare a produrre questo amore dovevo solo lasciare che il mio ego si facesse da parte in modo che l'amore potesse fluire attraverso di me ok lo farò sembra così facile da quassù mentre quando siamo sulla terra è così difficile e le cose sono molto più confuse che sembra non abbiano davvero senso poi mi disse io sono te ebbi problemi ad accettarlo dio è così grande potente amorevole come puoi dire che tu sei me io sono te e non riuscivo ad accettarlo in un istante al centro della mia fronte uscì un gigantesco occhio d'oro guardando indietro guardavo me stesso e dio disse sto vedendo la tua vita attraverso di te perché noi siamo uno e mi rimando indietro fu molto difficile tornare dopo questa esperienza non solo perché la vibrazione della terra è così diversa dalla vibrazione di questo posto in cui mi trovavo ma elaborare tutto ciò era un compito monumentale la prima cosa che notai al ritorno fu che le cose non andavano non avevo proprio lo stesso aspetto sulla terra mi sembrava di essere in un sogno o in un posto falso la terra è un'illusione è davvero un'illusione notai che non vedevo più con i miei occhi ma mi sembrava di vedere attraverso i miei occhi sembravano semplicemente finestre su qualcosa di più profondo dentro posso solo presumere che fosse così perché il mio terzo occhio è stato aperto fu davvero unico cominciai a vedere la vita in modo molto diverso non ero più interessato ai propositi dell'ego quando qualcuno mi mancava di rispetto non mi arrabbiavo più non mi sentivo più come dovessi lottare per la mia reputazione e cose del genere queste cose non mi interessavano più ho avuto ancora molti problemi avevo ancora tutti i traumi giovanili ancora perdevo la pazienza e mi agitavo a volte ma non perseguivo più le stesse cose iniziai a sottopormi al mio processo di guarigione iniziai a morire al mondo iniziai a vedere l'inutilità dell'uso di droghe e alcol capì che queste cose non sarebbero mai riuscite a guarire il vuoto che abbiamo nel cuore l'unica cosa che l'avrebbe guarito era passare il tempo con dio connettendoci con quella presenza amorevole che io ho sentito sempre ovunque qui sulla terra non la senti ma è comunque qui l'amore di dio è ovunque e possiamo sentirlo se impariamo a sintonizzarci non devi avere un nd e per farlo tutto è iniziato a sgretorarsi per me nel 2022 quello è stato l'anno della mia morte in pratica ho avuto l' nd e alla fine del 2021 il 2022 è stato andare in profondità con gli stessi processi per dissolvere i livelli non necessari che avevo portato dentro di me e imparando come vivere nell'unico modo che avrebbe soddisfatto la mia anima ora vado in giro io ai miei momenti di dimenticanza ma per la maggior parte adesso ricordo chi sono e mi sento nel mio flusso spirituale quando faccio delle cose sbagliate sono immediatamente fuori da questo stato di flusso e questo è molto doloroso per me ho realizzato che sono le cose che la maggior parte delle religioni chiama peccati sbaglie disarmonie quando non sono più nello stato di armonia torno dentro il mio ego molto danneggiato ecco perché è diventato abbastanza facile per me abbandonare la maggioranza delle attività peccaminose a cui prendevo parte è molto facile per me essere sobrio adesso è molto facile per me non perdere in fantasie lussuriose e desideri ambiziosi e seguire denaro e potere e cose del genere niente di tutto ciò fa per me ormai dal momento che la mia vita da quella notte è cambiata ho ancora molto lavoro da fare per guarire della mia infanzia molto traumatica e per sbarazzarmi di quei fardelli che sono ancora sulle mie spalle non avrei mai pensato di poterli guarire la guarigione sta arrivando abbastanza rapidamente e dio ha messo delle persone nella mia vita per aiutarmi non devo più stressarmi a preoccuparmene dio si prende cura di me proprio come si prende cura di te proprio come si prende cura di tutti noi dio è uno con me dio è uno con te dio è uno con tutti noi sono stato molto fortunato ad avere questa esperienza spero che condividerla possa aiutarti nel tuo viaggio e ricorda sempre che dio è con noi è uno con tutti noi e il suo amore è ovunque se impari a sintonizzarti abbi cura di te grazie per aver ascoltato concludiamo con un regalo per voi una frase di rumi purificati degli attributi del sé al fine di poter contemplare la tua propria essenza pura